Otto spettacoli teatrali, da Shakespeare a Tornatore, da Agata Cristi a De Filippo, attori della caratura di Giorgio Albertazzi, Anna Galiena, Marina Massironi, Amanda Sandrelli, 20 concerti che vedranno alternarsi musicisti internazionali uno ad uno. È questa l'offerta presentata al pubblico di Pescara da parte dell'assessorato alla cultura per la 49esima edizione della stagione di Prosa e Teatro. Io penso in una città le cose che più funzionano e più hanno efficacia nel territorio sono quelle che rimangono, sedimentano, crescono e nutrono la comunità di cultura. E sono 49 anni che a società del Teatro della Musica Luigi Barbara fa un calendario a mio avviso caridoscopico perché offre Prosa, offre Musica e nella Prosa abbiamo davvero spettacoli per tutti i gusti e per ogni generazione. Dai grandi classici come il Mercante di Venezia, interpretato da Giorgio Albertazzi, a commedie più moderne come Tres con Amanda Sandrelli. E diciamo un spettacolo davvero per tutti i gusti perché la cultura appartiene a tutti nella nostra città. Un'occasione per conoscere i grandi classici e vedere scene ai migliori interpreti del pensiero e della cultura umanistica come patrimonio personale e collettivo. La stagione si aprirà il prossimo 14 ottobre con il concerto di Pianoforte di Aldo Ciccolini. Certo ma la società così importante diretta poi da Lucio Fumo ha costruito negli anni dei rapporti una credibilità e una importanza tale che facilita avere contatti con così grandi produzioni perché Pescara diventa una città affidabile per i grandi artisti anche grazie a società come questa.